Envision TV, produzioni per la TV e il web. Al corso di formazione nel settore moda finanziato dal Fondo Sociale Europeo hanno risposto le donne. Sono le donne che hanno voluto acquisire maggiori competenze e si sono formate nell'ambito della costruzione del capo spalla, delle calzature, del cappello, degli accessori moda in generale. A Palazzo Azzolino, sede della Camera di Commercio di Fermo, c'erano le donne a lezione. Hanno potuto apprendere così come funziona l'istituzione che si occupa di economia, di imprese, di lavoro, cioè l'ente camerale. La Camera di Commercio di Fermo è partner del progetto sviluppato attraverso un corso di formazione di 800 ore che, preso il via ad aprile, si è concluso a novembre. Un corso di formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Parliamo di istruzione e formazione tecnica superiore, una qualifica europea che hanno potuto ottenere le persone che hanno partecipato al corso. Noi abbiamo aderito a questo progetto che vede in capofila la Sida Gruppe, ma che vede dentro tutta una serie di soggetti che sono gli attori dell'economia di questo territorio. Asso Calzaturifici, l'Università, l'Istituto Tecnico Montani che è sempre all'avanguardia, l'Istituto Ricci. Insomma, tutti questi soggetti che poi sono quelli che in qualche modo formano i giovani per l'economia del territorio, lavorano insieme per dare ai giovani un qualcosa in più, oltre a quella che è la formazione scolastica che è sempre fondamentale, un qualcosa in più di ordine pratico e mettere a loro a disposizione. Perché no? In questo caso, stamattina, io mi sono soffermato più su quelle che sono le funzioni della Camera di Commercio, sia da un punto di vista tecnico-burocratico, che è importante e che magari molti di loro ne hanno sentito parlare. A volte vediamo che ancora si confonde con Commercio, che è un'istituzione pubblica dove le aziende, dal loro nascere a tutto il volgere della loro attività, debbono fare riferimento e in qualche caso diventa di fondamentale importanza. Quindi abbiamo messo a disposizione questa conoscenza. Poi naturalmente abbiamo parlato su quelle che possono essere le opportunità da cogliere dai fondi europei, all'utilizzo del web, a quelle che sono le ricchezze del nostro territorio, e anche quelle che sono le caratteristiche delle nostre imprese, nelle loro virtuosità e nelle loro anche criticità, in modo che conoscendole sanno anche come affrontarle e sanno anche come in qualche modo, laddove dovessero loro trovarsi in difficoltà, uscirne ribartendo con ancora più tenacia. Si è costituita un'associazione temporanea di scopo finalizzata a formare figure esperte nel settore della tradizione e dell'innovazione nella moda, capofila del progetto Sida Group, società che fa formazione da anni, realtà coinvolte nel progetto Asso Calzaturifici, Università degli Studi di Camerino attraverso la Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno, l'azienda calzaturiera TOLC SAS di Luigi Gobbi e N.C., la Camera di Commercio di Fermo, Confindustria Fermo, l'Istituto Tecnico-Tecnologico Statale Montani di Fermo, l'Istituto Professionale di Stato, Industria e Artigianato, Ostilio Ricci. Il corso si è svolto negli istituti superiori di Fermo Montani e Ricci e nella Scuola di Architettura e Design di Ascoli. Noi come ente di formazione abbiamo creduto da diversi anni, operiamo nel settore, abbiamo proposto questo progetto formativo con i partner che si sono uniti al fine di raggiungere questo scopo, proprio al fine di rievocare la tradizione sul Total Look e innovare in quelle che sono le tecniche di produzione e industrializzazione dei prodotti dell'alta moda. Abbiamo visto che hanno risposto le donne, beh non possiamo dire perché hanno una marcia in più, perché saremmo di parte lei ed io, ma potremmo dire ecco se c'è soddisfazione da parte vostra per la risposta e perché? È stato un bel progetto che mi ha vista coinvolta sia personalmente che come ente di formazione, le ragazze coinvolte hanno dato veramente il massimo, hanno lavorato anche fuori dagli orari previsti, dalla formazione pura prevista durante il percorso, approfondendo e ricercando proprio nelle tecniche del riuso e del design che sono state trasferite durante il percorso formativo, una forma di innovazione da apportare nell'industria 4.0 verso la quale ci stiamo proiettando. Negli anni ci può dire se si è mantenuta stabile, è diminuita o è aumentata la richiesta di partecipare ai corsi di formazione? Diciamo che in uno scenario evolutivo la richiesta di formazione sia nell'ambito della formazione continua che dell'alta formazione si ha investito proprio attraverso competenze specialistiche e in questo momento di forte congiuntura in cui un po' il panorama sta cambiando, le industrie e le aziende del territorio si stanno innovando. Quindi rievochiamo la tradizione attraverso una formula innovativa e quindi attraverso nuove competenze. In Camera di Commercio affermo c'è stata la giornata dedicata all'ente camerale o meglio c'è stato il corso formativo per far conoscere alle partecipanti tutte le attività dell'ente camerale in modo da diffondere il più possibile le opportunità offerte dalla Camera, visi, bandi, procedure mai sufficientemente note. Quello che conta è la preparazione e dicevo prima la smania di voler fare, di voler conoscere, di voler imparare, di volersi formare e di voler formare gli altri perché ancorché vanno nelle aziende mi pare, spero anzi di aver fatto capire bene che all'interno delle aziende hanno una loro struttura ma debbono capire che ci sono tante opportunità e loro sono brave se riescono a fargli cogliere queste opportunità e questo non ha età secondo me da un punto di vista anagrafico ma è una questione di conoscere e di saperlo poi rappresentare bene. Per quanto riguarda invece la formazione e l'alternanza scuola-lavoro qui entra in ballo una dimensione molto più ampia del corso che stanno facendo oggi questi giovani ma è evidente che ci possono stare delle piccole sfilacciature. Tutti debbono capire che un giovane che va in un'azienda a formarsi significa per l'azienda comunque un impegno e non si può star lì a prendere ad esempio uno che ha dovuto fare le fotocopie che comunque dico che non c'è niente di disdicevole perché dopo mezza giornata o che io spiego a un giovane come funziona un'azienda cosa bisogna fare quando uno fa dagli ordini a quando arriva la merce che arrivano con bolle d'accompagnamento e fatture. Quando uno entra in un'azienda intanto che familiarizza con l'ambiente potrebbe dover fare le fotocopie anche quando vengono assunti. In questo non c'è niente di strano. Poi se c'è un caso dove effettivamente c'è stato un abuso ma non può essere questo preso a storia. Io vorrei che quando parliamo di formazione si richiamasse quelle situazioni che evidentemente non sono a posto ma si desse anche pubblicità a quei tanti imprenditori e ce ne sono tantissimi che chiamano questi giovani li formano e poi li assumono. Io vedo, e questa è esperienza della Camera di Commercio, i giovani digitalizzatori che abbiamo mandato nell'azienda per dare anche un'indicazione di base hanno finito per trovare un posto di lavoro là dentro. Io negli incontri che faccio con le associazioni di categoria dico sempre se noi non spendiamo del tempo per questi giovani che vengono nelle nostre aziende e vogliono arrivare già formati in modo da sfatare che con la scuola hanno imparato solo la teoria poi in pratica non sanno dove mettere le mani e questo lo possiamo fare solo se noi gli diamo una mano quindi è un fatto di tipo culturale ecco, è in questo senso che c'è da lavorare e da sensibilizzare però le parti debbono ragionare insieme come arrivarci e bisogna dare del tempo e bisogna anche investirci. Tra le partecipanti al corso provenienti da tutta la regione Marche c'erano laureate, diplomate, esperte nel settore moda donne che cercano lavoro, che l'hanno perso o che vogliono acquisire semplicemente nuove competenze per avere ancora più opportunità. Per noi donne è fondamentale perché il percorso di vita come conserva per tutti quanti si sposa, hai figli, cresci per tanti anni dopo ti trovi un momento o l'altro e di ricollocarsi nel mondo lavorativo con nuove esigenze, nuova professionalità perché il mondo di lavoro è cambiato completamente tecniche diverse, bisogna aggiornarsi grazie a questo corso ho potuto comprendere molto più come competenze in campo della moda che ho lavorato per tantissimi anni approfondire certe tematiche che ha dato anche possibilità di conoscere nuove realtà aziendali e professionali che incuriosisce sempre di più anche nuove di modo di vederle le cose come riciclo, reuso, eco design e andiamo avanti il mio obiettivo è comunque creare un'attività femminile con opportunità di guardare il mondo esterno all'estero e dare proprio pregio di questo territorio meraviglioso come Marchi Made in Italy che è dove non ti sposti se giri un pochettino il mondo lo vedi che è veramente una qualità un entusiasmo, una voglia, un amore per questo territorio che dimostrano all'estero per cui sfruttiamo questa situazione di quarti, già nato soprattutto e soprattutto queste donne con tanta voglia di andare avanti dare il loro contributo a questa società e speriamo bene Io ho fatto un corso di formazione orafa dopo il liceo seguito a Roma questo corso poi quando sono tornata ho lavorato in un laboratorio proprio qui a Fermo successivamente altre esperienze rivolative che comunque mi hanno fatto sempre stare a contatto con il pubblico diciamo a livello di commessa e poi ho aperto un mio negozio di bigiotteria artigianale nel mio paese dove per due anni ho diciamo creato le mie cose quindi mi sono dedicata principalmente a quello poi si sa magari con il tempo che corro nella crisi non è stato proprio semplice ho chiuso ormai un anno e mezzo fa e ho trovato questo corso online così ricercando e diciamo che mi è sembrata l'opportunità per ampliare un po' quelli che sono magari le mie conoscenze e devo dire che sono molto soddisfatta perché comunque sia toccando molti ambiti dalla calzatura all'abbigliamento essendo un corso total look si può ecco diciamo capire quali sono le proprie competenze ecco si aprono nuovi orizzonti diciamo e vorrei conciliare diciamo la mia parte il mio bagaglio personale dell'oreficeria della creazione del gioiello con quello che è comunque anche l'abbigliamento oppure anche la calzatura gli accessori in generale a fine marzo ci sono state le selezioni ai primi di aprile è partita la formazione e adesso parte la fase conclusiva del progetto che è lo stage nelle aziende del total look quelle che producono tessuti capi d'abbigliamento si tratta di stage costruiti sul fabbisogno delle aziende e sulle competenze delle stagiste si tratta di un vero e proprio progetto ad hoc che coniuga il fabbisogno delle aziende con le potenzialità delle allieve каждere chi ha l'abbit prodotti uno